Sono immagini che hanno fatto il giro del mondo, che hanno cambiato la storia, le vite di un paese, dell'intera società occidentale. Sono passati 17 anni dall'11 settembre e ancora quell'avvenimento resta tragicamente attuale, segna il passaggio tra un prima e un dopo, un ricordo che suscita numerosi sentimenti soprattutto in quella popolazione che quell'evento l'ha vissuto direttamente, gli Stati Uniti d'America. Abbiamo raccolto la testimonianza del direttore della sede di Arezzo dell'University of Oklahoma, Kirk Duclos, per fare il punto su come l'America, ricorda ancora oggi quel tragico avvenimento. Sono giorni così complicati per noi, ma ognuno ha un ricordo che fa ricordare un giorno che rimane sempre nel nostro cuore, nella nostra anima. È come chiedere a qualcuno dove eri quando succedeva una cosa importante. 11 settembre è sempre uno di quelli giorni, quindi dipende le persone, dipende a che punto erano nella vita, se era una giornata felice o una giornata triste. Uno dei due diventa sempre uguale, era un giorno molto triste, strano, ricordiamo tutti quanti anche tutti questi anni dopo. Per te personalmente, Kirk, come ricordi quel giorno? Che cosa significa per te? Io stavo lavorando in Italia, andando da Roma a Greve in Chianti. Avevo alcuni clienti che portavo a una villa. Mi ricordavo bene, sembrava più come una cosa del film, che non potevo capire esattamente che stava succedendo perché non può succedere una cosa di genere. Quindi tutti parlavano di se era vero, se c'è qualcosa che non quadra, come mai. Era una cosa surreale, che non aveva senso. Ci voleva tre, quattro giorni per capire bene l'importanza del giorno e la quantità di drama, di tragedia che succedeva quel giorno. Ricordi anche di storie, di testimonianze particolari, anche di persone che hanno avuto direttamente a che fare con quella tragedia dell'11 settembre. Certo, certo. Ci sono momenti così, in cui qualsiasi persona conosce qualcun altro che era lì vicino o, spero di no, c'erano dentro i lettori. Studenti da Oklahoma sono a New York per fare stage, perché i genitori lavorano lì o sono studenti che sono nati a New York e vivono a Oklahoma per andare alla scuola. Quindi questo circolo di conoscenze è molto corto, è molto vicino, perché se uno conosce qualcun altro sono questi sei degradi di conoscenze che dicono tutti che anche lontano da New York, come in Oklahoma, c'è sempre qualcuno che aveva un fratello, un cugino, un zio che lavorava in quella zona lì, se non proprio dentro le torre. Come lo ricordate, anche questo giorno dell'11 settembre, qui all'Università di Oklahoma, qui ad Arezzo, se negli anni avete fatto delle iniziative particolari? È difficile, perché vuoi fare una cosa che copre tutti, però questa emozione che deve coprire, gestire, fa capire gli altri che non hanno un'esperienza così profonda, non è facile. Quindi è importante che noi facciamo notte, che questo giorno è importante, che è cambiata la storia degli Stati Uniti. però senza troppo personalizzare le cose. È una cosa che fai da sé. Quando tu pensi, l'11 settembre, pensi proprio profondamente dentro tu stesso, per ricordare l'importanza del giorno. Se provi o chiedi ad altri da capire come ha capito te, diventa problematica. Quindi fa capistare sull'emozione di altri, non va bene. Quindi per noi può essere un prof che dice oggi è 11 settembre, si fa un minuto di silenzio. Perfettamente normale. Altri che fanno finta che non succedeva niente, perché non volevo offendere o imbrogliare qualcun altro che era molto vicino. Ricordare una persona che era così vicina che aveva un babbo lì dentro, un zio, un fratello, è forte. Quindi non vuoi aprire quella scatola di pandore di nuovo. Quindi per ricordare questi momenti si fa con si stesso. Ogni tanto si può offrire qualche condolenza, non so se si può dire. Però le cose che fanno alla grande sembra più celebratorio e non è l'idea, non è proprio quello. Quindi si fa tutto in un momento intimo. Si fa ricordare così. Dal tuo punto di vista, come è cambiata anche la vita degli americani? Anche per come hai visto dopo l'11 settembre. Ha cambiato tanto. Mi sa che gli americani sono nati con questa positività. Vedono sempre il futuro in una maniera che fa per bene o male. C'è questo discorso di progresso. Per andare avanti vuol dire che stai progressando. Non guardi mai indietro se non ti serve l'informazione per andare avanti, per migliorare se stesso. 11 settembre è uno di quelli giorni e sono pochi nelle storie degli Stati Uniti che chiede da andare oltre, da capire da un altro prospettivo come può succedere una cosa del genere. Che cosa l'abbiamo fatto? che gli altri l'hanno fatto a noi? Che tipo di storia che l'abbiamo messo in piedi che fa appoggio per queste persone per fare una cosa del genere? Sono tante cose che sappiamo nella storia degli Stati Uniti che siamo occupabili e non sono storie belle. Questo è uno di questi qui. Puoi dire a qualcuno che gli Stati Uniti doveva fare una lezione per quasi 3.000 persone che non hanno fatto niente. Quindi la lezione che l'hanno fatto vale la pena? Sono cose essenziali che dobbiamo pensare che in parte abbiamo creato un monstro nel mondo. In un'altra parte non si può mai dire che questi che non hanno fatto niente sono quelli che devono pagare questo debito. Quindi ha cambiato tanto. È un punto debole negli Stati Uniti che questi l'hanno fatto vedere in una maniera drammatica. che ora non si guarda sempre davanti nel futuro in un senso positivo. Si guarda intorno, indietro con un po' di paura. Può darsi che abbiamo guadagnato questo perspettivo. Si può dire che dobbiamo essere un po' meno positivi, forse, più controllati. Però a fine queste quasi 3.000 persone che l'hanno perso la vita non hanno guadagnato questo destino.